. Buonasera a tutti. Sono Valerio Rossi Albertini. Sono un fisico. Quindi vi posso confermare quello che già sapete. La temperatura del pianeta sta aumentando. Il sorriscaldamento globale, che prima era stato ipotizzato dagli scienziati, è stato confermato al di là di ogni dubbio ragionevole, è l'effetto serra. Ma io sfiderei a domandare a chiunque se abbia consapevolezza di che cos'è l'effetto serra. Vi voglio dimostrare che l'effetto serra lo conosciamo tutti quanti. Oggi è una bella giornata di sole ma è freddo fuori. Allora immaginiamo che questa sia la vostra auto parcheggiata sotto il sole, fuori fa freddo, siete intirizziti, ma quando entrate nell'abitacolo a causa dell'effetto serra sentirete un bel teporino, un bel calduccio confortante. Che cosa è successo? Ve lo dimostro. Questa sia la luce del sole. Questo è l'abitacolo. Vedete che la luce passa attraverso il parabrezza, attraverso i finestrini e va all'interno dell'abitacolo. Lì la luce del sole, che è energia, viene trasformata in un'altra forma di energia, nel calore. Con la differenza però che mentre la luce è riuscita a penetrare all'interno il calore non riesce più a fuoriuscire all'esterno e quindi tende ad accumularsi e la temperatura aumenta progressivamente. Questo è l'effetto serra in piccola scala. Prendiamo il nostro pianeta. Ecco qua. Lo rappresento in questa maniera, un emisfero, ma disgraziatamente vale anche per l'altro. A causa delle attività produttive noi stiamo immettendo un gas, l'anidride carbonica soprattutto, o per i ben parlanti la CO2, che sta svolgendo una funzione analoga a quella del parabrezza della macchina. Immaginiamo che l'anidride carbonica sia questo velo trasparente che adesso si trova sulla superficie del pianeta. La luce del sole riesce a penetrare attraverso il velo trasparente, ma il problema è che quando è convertito in calore toccando la superficie terrestre, quello stesso calore non è più in grado di sfuggire perché rimane imprigionato. Questo è l'effetto serra planetario. L'effetto serra è uno degli effetti di che cosa? Di uno sviluppo industriale un po' scriteriato, un po' dissennato, che non è stato fatto seguendo un piano regolatore, ma seguendo, l'abbiamo sentito, un modello di sviluppo che in realtà è stato inventato nell'Ottocento inglese. Si chiama economia lineare. L'economia lineare è uno schema in cui esiste una testa, un inizio di questo processo, che è l'estrazione dal sottosuolo dei prodotti che occorrono per lavorare i materiali e per produrre i beni di consumo. Nel Ottocento inglese era il carbone, nel Novecento invece è il petrolio, ma non è cambiato molto. Il concetto è lo stesso. Estraiamo dal sottosuolo la materia che ci serve, sia per costituire prodotti, sia per fornire l'energia occorrente per la trasformazione delle materie prime, abbiamo un prodotto e questo prodotto alla fine lo dobbiamo smaltire. Perché il nostro concetto è che il prodotto debba essere degradato, degradato a rifiuto, a scarto. In natura non esiste niente analogo al rifiuto o allo scarto. Quello che noi erroneamente considereremo rifiuto o scarto è alimento e vita per altre specie viventi. E vi voglio dimostrare che in realtà se ci riflettessimo un attimo, e qua la sigla, il motto è ripensiamoci, ripensiamo anche al nostro ruolo, alla nostra condizione. È vero anche per noi che ci nutriamo di scarti? Che cosa ci serve per sopravvivere? Mangiare ovviamente il cibo, no? Quanto si può stare senza mangiare, senza cibo? Qualche settimana? Senza bere? Qualche giorno? Ma senza respirare, quanto tempo si può stare? Solo qualche minuto. Dopodiché si spengono le cellule del cervello. L'aria, o meglio ancora l'ossigeno che noi utilizziamo, che cos'è? Lo sapete? Ve lo dico. È il sottoprodotto di un processo che è la fotosintesi clorofiliana che svolgono le piante. Le piante prendono l'anidride carbonica, effettivamente, l'acqua e attraverso una sostanza, che è la clorofilla, utilizzano l'energia solare per produrre gli zuccheri. Gli zuccheri sono l'alimento della pianta, ma sono anche l'alimento degli animali erbivori che di quella pianta si cibano e degli animali carnivori che si cibano di quegli animali erbivori. Il sottoprodotto di questo processo, lo scarto, il rifiuto, è l'ossigeno. Noi ci nutriamo dell'escremento delle piante. Facciamoci una ragione. Anche noi siamo inseriti nel ciclo naturale e guai se le piante non avessero questo escremento. L'ossigeno è un gas molto reattivo e quindi tende a combinarsi chimicamente con i prodotti che sono in giro per la terra e dopo qualche mese sarebbe completamente sottratto all'atmosfera. Quindi se noi viviamo, se siamo qua e respiriamo è grazie agli escrementi delle piante. Perché questo discorso? A che serve? E perché dobbiamo invece ripensare al modello di sviluppo economico? Perché in natura quello che facciamo noi non esiste. Tutto quanto quello che è utilizzato viene reinserito nel ciclo. Quindi non c'è una testa e una coda, ma c'è un circolo, è l'economia circolare. Quello che noi considereremo rifiuto diventa materia prima seconda, viene detta. E poi dopo un altro ciclo materia prima terza e così via, materia prima ennesima, in un ciclo chiuso che richiede soltanto energia e non richiede nuova materia o nuovo cibo. Potremmo pensare che allora sia semplice inserire le nostre attività produttive in questo schema. In un certo senso in alcuni casi lo è. Se prendiamo il vetro o prendiamo la plastica o la carta, noi che cosa facciamo? Alla fine del ciclo produttivo lo utilizziamo mandandolo al riciclo e trasformando quella carta, quell'alluminio, quel vetro in un altro prodotto. Ma ci avete mai riflettuto? È quasi un evento accidentale. Mi ritrovo un barattolo. Che cosa faccio? Lo butto? Ma no, riutilizziamolo. Non avrebbe senso farne un altro. Ma se prendiamo un telefonino o un computer o un televisore, ci sono tanti materiali preziosi per cui si sta violentando la natura, per cui ci sono dei veri forzati in terra che estraggono questi materiali preziosi per l'elettronica dalle viscere della terra e noi non sappiamo cosa farne. Perché i prodotti non sono concepiti per essere riciclabili. È questa la pecca. Il prodotto dovrebbe essere disegnato in maniera tale che alla fine della sua vita potesse essere smontato e riutilizzato. Guai a continuare su questo schema. Molte materie prime ormai sono in esaurimento ed anche quelle che non sono in esaurimento comportano comunque una violenza sul territorio, sul terreno da cui vengono estratte, che la terra non è più in grado di sopportare. Allora, tra tutti quanti questi prodotti, io voglio dimostrarvi che un prodotto in particolare, un dispositivo, una macchina ed in particolare l'auto elettrica, ci consente di ripensare al nostro modello di mobilità. Dobbiamo ripensare. Ripensare che significa rinunciare alla comodità di un veicolo? Ovviamente no. Nessuno sarebbe disposto più ad andare a piedi o a dorso di mulo. Sarebbe impensabile. Ma se abbiamo una macchina, perché questa macchina deve essere incompatibile con le esigenze ambientali? Prendiamo questo sistema. Lo vedete? Questo simula il funzionamento di un motore a scoppio. Sentite che rumore che fa? Questi sono gli attriti che ci sono all'interno. A che serve tutto questo? Perché il pistone va su e giù, è un moto alternativo lineare e deve essere convertito invece nel moto circolare della ruota. Quindi significa che motore e ruota non sono perfettamente compatibili. Prendiamo invece l'auto elettrica. Facciamo la stessa cosa. Sentite com'è silenziosa? Perché? Perché ha pochissimi attriti. Il motore elettrico ruota esattamente come gli pneumatici della macchina, quindi si può mettere in trazione diretta. Perciò non ha bisogno di lubrificazione, non ha bisogno di tanti organi meccanici di conversione di questi movimenti. Andiamo avanti. L'auto elettrica, lo sappiamo tutti e non mi soffermo, non ha emissioni. Quindi l'effetto serra famigerato che invocavo prima, nel caso dell'auto elettrica, se la produzione di energia non comporta essa stessa emissione di anidride carbonica, non ha alcuna emissione di gas serra. Ma questo è soltanto uno degli aspetti e non è neanche l'aspetto principale. Ve ne voglio dire un altro che invece è molto più preoccupante nell'immediato per la nostra salute, soprattutto per chi vive nei grandi centri urbani. Il nostro sistema respiratorio è stato plasmato dalla natura nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni, dei milioni di anni, per filtrare tutte quante le sostanze che non sono gassose e che potrebbero accidentalmente arrivare all'interno dei polmoni. Immaginate che questo sia un alveolo polmonare. Se accidentalmente una particella di polvere viene inalata, arriva sulla superficie dell'alveolo polmonare, eccolo qua. Però non fa gran danno, rimane, galleggia sulla superficie. Le polveri che sono emesse invece dai motori a combustione interna, dai motori a scoppio e le polveri di metallo che sono prodotti da questi attriti che vi ho fatto vedere, sono molto più pericolose. Sono le polveri sottili, o se sono ancora più sottili di così, le nanoparticelle. Nano significa in fisica un miliardesimo, quindi significa che sono particelle della dimensione di un miliardesimo di metro, cioè pressa poco della stessa dimensione del nostro DNA. Se un granello di polvere sottile arriva nei nostri polmoni, guardate che cosa fa. Gli alveoli polmonari hanno una struttura spugnosa come questa, piena di anfratti. La nanoparticella entra all'interno dell'alveolo polmonare e disgraziatamente, siccome l'alveolo polmonare è a contatto con il flusso sanguigno, da lì viene trasportato in ogni distretto corporeo, in ogni organo. E la cosa preoccupante è che alla fine dell'anno scorso, su una rivista scientifica molto importante, l'ANSET, è stata stabilita la correlazione tra l'insorgenza di malattie neurodegenerative, Parkinson e Alzheimer, e la concentrazione di polveri sottili nell'ambiente in cui il soggetto viveva. Ma non è ancora finita qua. Prendiamo il caso di prima. Se abbiamo un sistema frenante per le macchine consuete, le macchine tradizionali, vi faccio vedere come funziona. Immaginate, lo sappiamo tutti d'altronde, che questo qua sia alla ruota che gira, oppure il disco attaccato alla ruota. Il sistema frenante funziona così. Due ganasce si stringono e bloccano il disco, che è solidale con la ruota, e convertono l'energia di movimento della macchina in energia termica, in calore. Questo è il sistema barbaro con cui le nostre macchine frenano. E quindi, mentre nel caso precedente, la produzione di particelle metalliche era un effetto collaterale indesiderato, il surriscaldamento invece del disco dei freni è un effetto necessario, perché soltanto in questa maniera la macchina rallenta. E allora immettiamo all'interno dell'atmosfera altre particelle metalliche, con l'aggravante che, mentre le particelle carboniose comunque hanno una composizione a cui il nostro organismo è abituato, perché sono simili a quelle che si sprigionano dalla combustione, ad esempio del legno, di particelle metalliche. Noi non abbiamo alcuna esperienza, le particelle metalliche non sono in natura, e quindi quando arrivano nei polmoni il nostro sistema immunitario non sa come reagire. Di solito crea un'infiammazione tentando di distruggere quello che ritiene essere un batterio o un virus, con il solo effetto di aggravare la situazione, perché alla fine infiammazione dopo infiammazione sono le cellule del corpo a risentirne ed eventualmente a degenerare. C'è un altro modo, un altro mondo dei freni è possibile? Ve lo dimostro. Mi metto a favore e guardate. Faccio cadere una pallina di plastica che è un diametro confrontabile col diametro interno del tubo. Vado. Come vedete, niente di strano, cade per gravità. Ora prendo invece un'altra pallina di materiale metallico, che sia metallico, ecco qua. Ve lo dimostro, perché riesco a sollevare addirittura un barattolo. Questo è un tubo di rame, non c'è nessuna trazione, eppure se io faccio cadere la pallina all'interno va il rallentatore. Non è magia, è un effetto fisico. È un rallentamento magnetico, non è un rallentamento per attrito. E quindi significa che è possibile frenare gli autoveicoli senza bisogno di utilizzare il sistema dell'attrito. E le macchine elettriche hanno anche questo. Hanno i freni magnetici rigenerativi che convertono l'energia di movimento in nuova energia elettrica. E che questo particolato sia tutto quanto intorno a noi, ve lo faccio vedere con quest'ultima dimostrazione. Qui c'è della polvere nel barattolo. Io agito il barattolo e si vede che c'è un po' di pulviscolo. Dopodiché pensiamo che il pulviscolo sia depositato e quindi non possiamo più respirarlo. Uso laser. Guardate, la luce del laser da sola non è visibile. Quando invece lo faccio passare attraverso il barattolo, vedete perfettamente che la luce diventa visibile. Perché tutte le particelle che sono tuttavia presenti, ma che noi non vediamo, riflettono la luce del laser. E queste particelle per strada noi ce le respiriamo. Quindi, la conclusione di questo discorso è che l'economia circolare non soltanto è una possibilità, ma è una necessità, è un imperativo categorico. Ed esistono già degli apparecchi, degli strumenti, come la macchina elettrica, che consente di convertire questa teoria in pratica. Eccola la macchina elettrica. Vedete? È una macchina che si muove azionata dalla luce del sole. In realtà è soltanto una simulazione. Ci vorrebbe per muovere una macchina vera, un'automobile, un pannello, una pannellatura solare grande quanto un campo di tennis. Ma il concetto è corretto, perché si può utilizzare, ad esempio, su grandi superfici, ad esempio i tetti di edifici dismessi, come questi che abbiamo visto qui a Reggio Emilia, e quell'elettricità utilizzarla per far andare l'auto elettrica. Perché l'auto elettrica non è un vezzo. L'auto elettrica è l'ultimo anello della catena dell'igiene energetica. Produzione pulita di energia ed utilizzazione altrettanto pulita. E quindi qual è la conclusione di questo discorso? È che noi siamo già senza saperlo nell'era dell'economia circolare. Questa è una rivoluzione in atto. Un vento di cambiamento si sta sollevando. E un proverbio cinese dice che quando c'è vento di cambiamento, sono due le disposizioni di spirito possibili. Lo stolto innalza un muro per proteggersi. Il saggio inizia a costruire mulini a vento. Grazie.